A Rocca Bennarda, l'idente cittadina dell'entroterra cotonese, domenica scorsa, innanzi ad una pratea nutrita e qualificata, presso l'area dell'ex Convento dei Minimi, il dottor Rocco De Rito ha presentato il suo ultimo romanzo, dal titolo L'albero di Sambuco. Come nasce questa sua passione per la scrittura? Diciamo che l'ho coltivata da sempre, negli anni mi sono dedicato spesso e volentieri a scrivere, ho scritto delle commedie che abbiamo pubblicato, ho scritto anche delle poesie, qualcosa sulla dialettologia e nel 2016 ho pubblicato il primo volume sulla storia di Rocca Bennarda, un volume di 400 pagine che è presente qua e adesso mi sono dedicato un pochettino alla narrativa con una storia assolutamente fuori dai canoni normali che lascerà molte perplessità, però è una storia da raccontare. Questo titolo del testo, L'albero di Sambuco, credo abbia come protagonista quest'albero molto antico e in alcune culture ritenuto anche magico probabilmente per le sue proprietà curative. Dunque nel titolo si trova l'essenza del romanzo, tutto è concentrato in questo titolo e in questo albero, l'albero magico delle sette virtù salutari che nella tradizione nordica ha un potere estremamente contro le attività malefiche, contro gli scongiuri, eccetera, eccetera. Nella tradizione contadina mettevano tutto un albero di Sambuco vicino all'abitazione perché doveva scacciare le streghe maligne, eccetera, eccetera. Ogni contadino che passava si toglieva il cappello sette volte, eccetera. Il titolo significa, simboleggia la magia che c'è nel romanzo. Il romanzo è magico perché ci sono fatti reali, però anche fatti creativi che ci conducono alla fine a una storia straordinaria, reale, vera, che, ripeto, lascerà qualche pretensità, ma è vera la storia, quindi non la devolviamo prima, però la storia è molto importante, c'è. Quindi si basa su una storia vera? Una storia vera, però ci arriva attraverso un percorso immaginario. Un percorso immaginario fatto di vicissitudini vere e reali, diciamo così, e anche ovviamente attività creative, io le chiamo congetture immaginifiche perché praticamente immagino un percorso, c'è un personaggio straordinario, quindi dotato di poteri straordinari, questo poi ci condurrà alla fine, diciamo così, a questo evento straordinario avvenuto nel 1950 nel territorio di potenza. Il libro va letto, non si può saltare le pagine, bisogna leggerlo tutto per capirne il senso fino in fondo, diciamo.